Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel con un nuovo appuntamento della rubrica nutrizione e benessere e con i preziosi consigli del dottor Andrea Ricci che oggi ci parlerà del legame tra alimentazione e patologie cardiocircolatorie. Allora dottore vogliamo informare i nostri telespettatori su cosa sono queste patologie e la giusta alimentazione per poterle prevenire? Sì allora il rapporto tra alimentazione e patologie cardiocircolatorie quindi parliamo della pressione alta, di tutti i problemi cardiaci in generale è sempre stato sottolineato ovviamente dai medici e nutrizionisti questo perché c'è anche un grosso aumento delle patologie cardiocircolatorie che diventano anche una delle prime cause di morte questo perché sono anche molti i fattori di rischio quindi andiamo dall'età, dal sesso, il fumo, il sovrappeso, l'obesità, la scarsa attività fisica, ovviamente i livelli di colesterolo, di trigliceridi alti, il diabete e quindi in questo contesto diciamo l'alimentazione si inserisce come una forma anche di prevenzione proprio di questo tipo di patologie. I comportamenti da evitare da un punto di vista alimentare ovviamente sono quelli di una dieta eccessivamente ipercalorica quindi ricca di alimenti o cibi cosiddetti cibi spazzatura cioè molti ricchi di grassi e di zuccheri e invece di preferire quelli che sono più o meno un'alimentazione sul modello mediterraneo quindi preferire i cibi vegetali rispetto ai cibi di origine animale, consumare la giusta quantità di cereali integrali anche per aumentare la quota di fibre, prediligere l'olio extravergine di oliva come condimento principale, ridurre il pesce azzurro quindi ricco di omega 3 che tanto fanno bene a tutto l'apparato cardiocircolatorio, ridurre il consumo di sale e appunto di zuccheri semplici e tutto però ovviamente deve essere anche associato alla giusta attività fisica. Ovviamente consideriamo anche che chi soffre di una patologia cardiocircolatoria ha comunque necessità oltre alla terapia farmacologica messa in atto dal medico, dal cardiologo di seguire questa terapia quindi sia farmacologica ma anche alimentare per un tempo molto lungo, diciamo indeterminato e quindi c'è necessità anche di stabilire appunto con il nutrizionista un piano alimentare che sia proprio mirato a prevenire quelli che sono i fattori di rischio più strettamente alimentari come per esempio possono essere la glicemia, il colesterolo, il trigliceridi che però deve prevedere anche ogni tanto un qualche evasione, giusto perché essendo su un periodo appunto molto lungo fare semplicemente o dire un semplice elenco di alimenti da escludere potrebbe avere soprattutto solo un effetto controproducente. Quali sono i cibi più sconsigliati quindi che risultano nocivi per questo tipo di patologie? Sì andiamo da un consumo eccessivo di canne rossa per esempio gli insaccati, i salumi, i formaggi molto stagionati, un consumo come dicevamo prima molto elevato per esempio di sale ma anche l'alcol e tutti i cibi con un alto indice glicemico quindi tutti i carboidrati molto raffinati, gli zuccheri semplici, ecco sono tutte queste cose che andrebbero in un'alimentazione diciamo salutare, sono tutte norme che andrebbero seguiti da tutti a maggior ragione per chi ha magari anche una familiarità per delle patologie cardiovascolari che quindi deve prestare maggiore attenzione appunto al colesterolo, al trigliceridi, alla glicemia in generale. Quindi insieme all'alimentazione è consigliabile comunque abbinare una attività fisica? Sì questo sempre che può andare diciamo da una semplice camminata, passeggiata con una buona frequenza settimanale ma anche appunto uno stile di vita più sano quindi evitare magari di prendere la macchina per fare dei piccoli spostamenti ma in generale quindi avere uno stile di vita più attivo ovviamente evitando il fumo e con un'alimentazione che sia adeguata a quelle che sono le proprie necessità per evitare appunto il sovrappeso e l'obesità che è comunque un fattore di rischio in più per questo tipo di patologie. Bene noi ringraziamo il dottor Ricci e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la rubrica nutrizione e benessere.